L'aspetto che mi soddisfa di più è stato che abbiamo tenuto bene il campo per 90 minuti, siamo riusciti a tenere un buon ritmo e siamo riusciti a mantenere vivo sempre questo atteggiamento propositivo fino al novantesimo minuto. Stiamo lavorando su tanta riaggressione immediata sulla palla persa, sulla voglia di attaccare sempre in avanti, sulle difese preventive e quindi stasera lo abbiamo fatto bene. Non è da tanto che lavoriamo tutti insieme come squadra, però alcuni principi stanno già entrando nella testa dei giocatori. Io alleno i giocatori che ho a disposizione con quelli che ho a disposizione e cerco di tirarli fuori il meglio. Per quanto riguarda il regista abbiamo quattro centrocampisti che possono giocare insieme, sia come l'abbiamo fatto stasera con McKennie e Rabiot, ma ci sono anche Bentancur che l'anno scorso ha fatto quasi tutte le partite che magari è arrivato anche da un infortunio e deve ancora recuperare bene. Lo stesso Arthur che si deve inserire dopo che è arrivato dal Barcellona. Quindi avremo svariate soluzioni e dipenderà poi dalla partita da giocare. Vedo tutti i giorni dei grandi giocatori che si applicano e lavorano per migliorarsi. Poi certo abbiamo appena iniziato e ci sarà modo e tempo per migliorare. Però già la predisposizione al sacrificio e al lavoro che forniscono loro ogni giorno mi danno veramente grande sicurezza. Lui ha solo bisogno di star bene, si sta allenando bene dal primo giorno. Fortunatamente non è andato in nazionale e quindi abbiamo avuto modo di poter lavorare con lui per più tempo. È un grande giocatore, è un giocatore molto intelligente. L'unica speranza è quello di averlo sempre bene fisicamente perché poi lo ha dimostrato negli anni in cui ha giocato nell'Arcel e è un campione. Io metto in campo i giocatori che secondo me sono i più adatti nelle circostanze delle partite che devo giocare. In questa circostanza Frabotta lo è stato. Si è fatto male Alex l'altro giorno e non ho avuto nessun dubbio di mettere dentro un ragazzo dell'Under 23 perché si allenava con noi dall'inizio e dimostrava grande serenità e fiducia. Quindi se c'è da mettere dentro un ragazzo che merita non c'è nessun problema. Grazie a tutti.